Musica Assolutamente sì, importante perché abbiamo fatto una gran partita secondo me abbiamo giocato tenendo sempre le distanze giuste, interpretando bene le fasi di gioco è chiaro che il risultato premia la squadra oggettivamente che ha più qualità, più forte perché Napoli fino a poche giornate alla fine poteva vincere lo scudetto quindi prendiamo una squadra potenzialmente che poteva benissimo essere campione in Italia però per quello che riguarda noi, che io ho guardato la mia squadra, la squadra si è comportata molto bene può solo crescere, di questo sono molto soddisfatto perché un test contro, questo era un test probante contro una squadra forte come il Napoli e noi abbiamo fatto bene C'erano diversi assenti, Olivieri, Angella, lo stesso Dell'Orco? Ogni assenza rappresenta un'opportunità per chi entra per dimostrare il proprio valore e oggi sono contento perché alcuni ragazzi hanno dimostrato veramente di essere all'altezza quanto meno di poterci contare poi è chiaro che sono molto giovane, abbiamo giocato con dei 2003, 2005 e 2006 è normale che devono crescere però il materiale dove poter lavorare c'è Come procede? Io vi dirò ora questa settimana che verrà Il ritiro procederà in maniera come abbiamo programmato domani chiaramente faremo un giorno di riposo, mezza giornata di scarico la facciamo perché dopo, dal 4 di luglio non ci siamo mai fermati però ecco, abbiamo la possibilità di lavorare molto bene in un ambiente ottimo per strutture con un campo di gioco eccellente e poi il clima è sicuramente, è vero che il caldo va per tutto ma qui non è caldo come ciò da noi quindi si lavora bene anche a livello di, insomma ecco, di clima Cosa le è piaciuto di oggi del Perugia, della sua squadra? Ma abbiamo imparato a tenere distanze non era facile fare tutte quelle scarate che chiedo io però i ragazzi hanno fatto bene poi il risultato secondo me non voglio dire che è bugiato che lascia il tempo che trovano però noi abbiamo creato anche delle opportunità, siamo stati vivi non abbiamo subito la partita, l'abbiamo aggredita poi come ho detto prima, è chiaro che la qualità della Napoli fa la differenza però noi siamo stati pericolosi, abbiamo attaccato, abbiamo creato opportunità abbiamo corso ma l'abbiamo fatto bene quindi ecco, mi è piaciuto anche come abbiamo tenuto il campo per tutti i 90 minuti Grazie a tutti